È riuscita a sfuggire a un tentato omicidio, assassino? Allora, non mi sento viva perché sono, tra virgolette, morta quando è morto lui. Forse col tempo riuscirò a prendere in mano la mia vita, ma dire di sentirmi viva no. Lei dopo sei anni di relazione da gennaio l'aveva lasciato, rottura da lui però non accettata e si era per questo rifiutato di consegnarle le chiavi di casa. Francesca, nome di fantasia per tutelarla, scampata alla brutale aggressione di pochi giorni fa a Mestre che per miracolo non si è trasformata in femminicidio per mano del suo ex che poi si è tolto la vita nella sua casa di Noale. Negli occhi di Francesca, sul viso e addosso, i segni visibili e invisibili del tentato strangolamento. Con gli occhi fuori di testa mi ha avventato per il collo, mi ha scaraventato per terra. Da quel momento io vedevo tutto sfocato. Ancora sotto shock, ripercorre quei terribili istanti di un tempo interminabile accompagnandoci nell'angolo della casa in cui è scampata la morte. Lui era probabilmente con le gambe, non so, seduto sopra di me, seduto in questo bagnetto dove... Quindi tu vedevi il soffitto? Vedevo qua, vedevo qua e aspettavo di morire. Riversa a terra con il viso deturpato e colmo di sangue, quello che l'usciva dal naso e dalla gola, l'imprevisto che le ha salvato la vita. Io sono riuscita con la mano sinistra ad accarezzare il viso e a dirgli la parola ti voglio bene. L'ho fatto con la speranza che lui mi lasciasse andare. Immediatamente mi ha sollevata da terra e ha detto, guarda cosa ho fatto, adesso mi uccido. Io gli ho detto, no, stai calmo, non è successo niente. Tu ha tutto, c'è un rimedio. Gli ho dato un bacio stampo sulla bocca, tanto per fargli capire che io ero con lui. Gli ho detto, pulisciti le mani, che sei pieno di sangue. Così, lasciando il suo aggressore a casa con una scusa, è salita in macchina e da sola si è recata al pronto soccorso, dove con la presa in carico dei medici, la denuncia è scattata in automatico d'ufficio, come previsto dai protocolli. Ho tentato omicidio a fin fine, perché se continuava, adesso eravamo in due all'obitorio. Sebbene vittima, soffre molto per il suicidio del suo ex, il messaggio ai familiari di lui? Ha ferito due famiglie, però adesso lui è morto, ma io invece porterò la cruce per tutta la vita. Perché comunque è una persona che ha fatto parte della mia vita, nel bene o nel male, anche se ha fatto quel gesto, è sempre una persona che ha fatto parte della mia vita.